Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi ci ritroviamo con un video diverso, infatti non abbiamo un'analisi di gameplay, non abbiamo un video che riguarda moduli, tattiche, istruzioni, non abbiamo un competitive stories, non abbiamo nulla di quello che vi ho abituati a vedere sul canale. Oggi è un video rapido, diciamo rispetto al solito, un video più info nel quale vi annuncio quella che sarà una rubrica, una serie che ho intenzione di portare sul canale, quindi diciamo che questo funzionerà da episodio pilot, quindi guida per quello che sarà l'evolversi di questa serie, che si chiamerà Questo o Quello. Nome simpatico, embrionale, può darsi pure che evolverà, però al momento è questo qua. Cosa andiamo a fare in Questo o Quello? Molto semplicemente, sono tantissimi i commenti che mi fate, sia durante le live, sia durante i video qui sul canale, del tipo Quindi tutta una serie di dubbi ai quali cercherò di dare risposta andando a fare dei confronti statistiche alla mano e anche in base a quella che è la mia esperienza di gioco o a quella che è l'esperienza di gioco di altre persone che so che hanno provato quelle carte. Quindi facciamo ad esempio proprio un caso pratico e passiamo sulla schermata di uno dei miei ultimi video, ossia quello dove andavamo ad analizzare quelle che erano le future star. Vediamo che ad esempio il buon Matteo Grassano ci chiede Meglio Grimaraes o Marchignos Oppure Carlo Desiderio Volevo usare la coppia da Lord Teo Teo DC e da Lord TS Ho paura che da Lord non sia top Tonali più Bruno ci sta come mediana Oppure ancora vediamo un attimino se ci sono altri dubbi Meglio Kuluseski dei Zelli Prime e Teo Oppure Garrincia, Vandicchi e Alexandro Quindi tutti questi dubbi qui cercherò di fugarli in quelli che sono gli episodi di questo o quello Quindi durante questo video andate poi a scrivere nella sezione commenti quelle che sono le vostre perplessità E cercherò di selezionare quanto è più possibile per il primo episodio che uscirà mercoledì prossimo Vorrei mantenere come cadenza settimanale un video di questo o quello ogni mercoledì Quindi facciamo ad esempio il caso della domanda che ci ha posto Matteo Grassano E confrontiamo il buon Bruno Ghimaraes e il buon Marchignos Vediamo che sono tutti e due giocatori che hanno 3 di piede debole e 3 di mosse abilità Sono entrambi alti praticamente 1,83 per Marchignos e 1,82 per Bruno Ghimaraes Hanno la medesima velocità solo che Bruno Ghimaraes ha un pelo in più di accelerazione Per quanto riguarda statistiche di tiro siamo lì se non quel parametro di potenza tiro per Marchignos Che è ottimo ma inutile Per quanto riguarda i passaggi in questo caso ottimi per entrambi Eccezionali in particolar modo per il buon Marchignos Per quanto riguarda invece parametri di dribbling vediamo che il buon Marchignos è levemente più agile E gli altri bene o male se la dibattono Per quanto riguarda le statistiche difensive un pelo meglio in quelle di mentalità difensiva e contrasto in piede Che ci interessano nonché nelle intercettazioni per Ghimaraes Ma insomma attributi tutto rispetto anche per Marchignos Parametro che ci interessa maggiormente è l'87 di aggressività e l'85 forza Mentre per Marchignos abbiamo un 77,82 Poi vediamo che Ghimaraes costa più o meno sui 200k Quindi il prezzo è similare a quello di Marchignos Quindi per dirvi come avrei risposto a questo dubbio La risposta sarebbe stata molto semplice Nel caso in cui abbiate già sbloccato Marchignos Che è un giocatore Una carta appunto non scambiabile Non sarei andato a sbloccare onestamente questo Bruno Ghimaraes Che praticamente è il suo doppione Quindi questa sarebbe stata la risposta in questo caso In questo o quello si possono parlare anche di moduli Quindi potete chiedermi meglio il 4-4-2 O meglio il 5-3-2 In base a quelle che sono magari le squadre che avete Però per quello vi ricordo che per come interpreto io La discriminante che vi deve far pendere per un modulo o per un altro Sta semplicemente nell'andarlo a testare E nell'andare a riscontrare, tastare con mano Se vi trovate bene di più con uno o con l'altro Quindi su quello c'è un po' più di soggettività Rispetto all'oggettività di una carta Che soprattutto se testata in game Rende più o meno di un'altra in determinati ruoli Eccetera eccetera Quindi spero che quest'idea di rubrica possa viacervi Questo o quello quindi vedrà la luce settimana prossima Con le vostre prime domande Che mi raccomando Vi invito a lasciare qui sotto Nel box dei commenti Noi ci vediamo domani ragazzi Qui sul canale con un video di tattiche Piccolo spoiler perché è arrivato fino ad ora delle tattiche Per recuperare le partite veramente clamorose Che sto provando ultimamente Vi ricordo come al solito di lasciare un bel like Iscrivetevi al canale Il commento già ve l'ho detto Più che mai è importantissimo In infobox trovate tutte le info Per quanto riguarda le live giornaliere sulla piattaforma Viola E a me ragazzi non resta altro che augurarvi una buona giornata E un salutone dal vostro Riberoski Ciao ciao